bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e come ogni patch vi parlo di tutto quello che è stato scoperto per adesso nella patch 14.40 incredibile perché sono ben 26 giga per pc il che ha permesso di mantenere il peso di fortnite da 89 giga appunto a 26 con un conseguente acceleramento accelerazione con una conseguente accelerazione dei tempi di caricamento e del gioco in generale ma andiamo subito ragazzi a vedere o intanto mi raccomando campanella codice xyuderone nello shop che qua non c'è tempo da perdere dobbiamo andare a vedere tutto quello che c'entra con quanto riguarda le news primo la schermata del fortnite mers midas revenge ve ne avevo già parlato nel video news di questa mattina la vendetta di mida è il tema del fortnite mers 2020 ragazzi una gran figata perché mida torna nella sua agenzia che viene riaddobbata completamente ad halloween quindi a spooky a creepy chiamatelo un po come vi pare e insieme a lui gli scagnozzi con in mano il pumpkin launchers confermato anche comunque il concerto dj belvins che non dovete perdere vi spiego perché nello shop uscirà lo school dancer se non ricordo male si chiama è una skin con indosso un outfit da scheletro al neon partecipando al concerto dj belvins potrete andare ad ottenere gratis uno nuovo stile sappiamo che sarà alle ore 22 del 31 ottobre nel trailer del fortnite mers che potete andare a trovare tranquillamente su yacht it ci sono un sacco di nuove skin qua abbiamo delle immagini che ce le mostrano in una maniera abbastanza chiara arriva la baba yaga arriva il nuovo dottore arriva patch che è il nome di quella ragazza con la zucca in testa e un nuovo pack ma andiamo a vederlo con calma questi invece sono i regali scusate i regali del fortnite mers tutti completamente gratuiti completando le nuove quest partendo in basso vediamo l'adesivo della scimietta che batte i piatti a destra in basso la copertura dedicata ai come si chiama agli zombie che vengono generati dai pezzi del kevin tutto a destra potrebbe essere un altro adesivo quello delle ombre e poi il backpack quindi la scimmietta oltre ad essere un adesivo sarà anche uno zaino utilizzabile adesivo con la faccia di mida e un piccone completamente in omaggio quindi bellissimi i regali del fortnite mers questa invece che state vedendo è la variante quindi quella rossa di cui vi parlavo poco fa guardando il concerto di belvins il 31 ottobre alle 22 potrete ottenerla gratuitamente altre immagini per quanto riguardano il midas revenge queste sarà questo è il trailer la parte finale del trailer come vedete c'è anche uno stile gratuito per tutti quelli che avevano acquistato la skin femminile o maschile con la scatola in testa molto molto bello e attenzione perché questo giro dovete anche giocare nelle mappe in modalità creativa perché arriva un nuovo regalo la copertura come vedete mummificata sembrerebbe si potrà ottenere giocando 20 mappe che verranno pubblicate in modalità creativa ogni mappa al suo interno ha nascosto un codice non è confermata al cento per cento quella delle 20 mappe potrebbero anche essere meno ma una volta che otterrete tutti i codici automaticamente otterrete come regalo questa copertura quindi tanta tanta roba e andiamo avanti perché questa invece un'altra immagine che invece ci mostra i cambiamenti che verranno introdotti nella mappa nel fort night mers il primo la sotto le brooms quindi le scope volanti che diventeranno una specie di deltaplano perché si cavalcheranno un po come succede per i deltaplani abbiamo il ritorno del pumpkin launcher lì a destra invece vedete una zucca con dentro le caramelle dovrebbe essere quella che sostituisce i food box quindi le scatole che si aprono dove esce la frutta e la verdura usciranno invece delle caramelle che avranno ovviamente gli stessi effetti in basso a destra invece il ritorno della balestra la crossbow che dovrebbe essere un'arma solo per gli scagnozzi quindi non credo si trovi in giro però potrai tranquillamente sbagliarmi altre immagini per quanto riguarda il nuovo pack un un orso scheletrico il pesce secco scheletrico la più indietro vediamo anche un'altra schema adesso le vediamo meglio nelle immagini che stanno per arrivare questa è una bellissima inquadratura di come sarà invece la nuova agenzia come vedete torna mida ne riprende il possesso non sappiamo se si chiamerà ancora autorità o tornerà a chiamarsi agenzia ma tanta roba e guardate un pochettino perché nei file di gioco sono state trovate delle stringhe dedicate alla skin di ghost rider tanta tanta roba un altro eroe marvel che farà parte di questa season ne avevamo già parlato era già stato spoilerato sulle copertine della dei fumetti appunto soprattutto quelli appena usciti che mostrano il crossover tra marvel e fortnite questo è il suo outfit e non è finita perché arriva anche una grande grandissima collaborazione ma non ho ancora le skin le vedrete probabilmente nel video news di domani non è qua l'immagine fra poco arriva fra poco arriva queste sono le skin che invece arriveranno nei prossimi giorni nello shop il dottore la skin con la zucca questo è lo school dancer questo è headlock invece si chiama e queste invece sono le quattro skin del pack il dur burger scheletrico la parte femminile di raven scheletrica non mi ricordo mai il nome il pesce secco scheletrico e il l'orso scheletrico davvero molto bello mi auguro che il pack si paghi semplicemente in v bucks e non in euro quello che state vedendo invece è una serie di nuovi prefabbricati che arriveranno per quanto riguarda la modalità creativa quindi se siete amanti della creazione nelle mappe potete utilizzare queste nuove cose per abbellire ovviamente la vostra mappa sempre a tema di halloween e andiamo avanti perché queste sono altre skin che stanno arrivando baba yaga personalmente mi piace tantissimo molto molto bella e concludiamo con patch quindi la skin con la testa di zucca varianti gratuite anche per jack gordon per chi l'avesse shoppato l'anno scorso anche se credo tornerà anche in questo fortnight mers una variante con la testa dorata e il mantello e un'altra dove ci sono tutte le zucchette di color oro quindi sempre un piacere avere delle skin gratuite un'altra variante anche per il ranger dei boschi gli cambiano sia l'outfit sia il backpack e sia il piccone quindi torna disponibile anche il piccone del ranger dei boschi che era stato disabilitato molto probabilmente per cambiare l'outfit finalmente un'immagine anche della minimappa se così fosse sembrerebbe che tutte le location saranno da riscoprire e si parlava anche di una nuova location sopra l'agenzia di tony stark quindi il lago dovrebbe diventare heart lake quindi lago del cuore in poche parole staremo a vedere non appena si potrà andare insomma ragazzi anche per oggi tutto il fortnight mersi io ve l'ho detto ragazzi di twitch non scappate perché io resto in live mando l'outro grazie per aver guardato questo video un bel pollicione in su iscrivetevi a canale ai miei canali e mi trovate in live su twitch ciao ciao